Dottore, dalle sue indagini emerge una figura che sembra un po' il centro ideologico di quest'alta massoneria che ha scoperto soprattutto nella fase più moderna ed è la figura dell'esoterista inglese Alistair Crowley. Lo definisca in breve parole, perché ha questa importanza questo personaggio secondo lei? Perché questo personaggio ha influenzato non solo il pensiero esoterico dal momento in cui lui ha iniziato la sua attività conoscitiva e divulgativa, sto parlando addirittura della fine degli anni 1890, l'inizio del Novecento. Poi in particolare è stato in Italia nel 1920-22 e praticamente ha condotto anche nel periodo successivo attività di pratiche delle sue considerazioni, riflessioni e scoperte che comunque esistono sia a livello pratico, ma anche a livello teorico, cioè vi è tutta una parte e che arrivano fino o quasi alla sua morte, cioè che se non sbaglio è avvenuto nel 1946-1947, ma che praticamente hanno visto l'effettuazione da parte di questo soggetto di studi ed evoluzione di questi suoi studi fino alla fine della sua vita. L'importanza è che hanno avuto una divulgazione eccezionale e questa diffusione è penetrata negli usi e costumi a livello mondiale mondiale, attraverso un sistema di interferenza nei mezzi di comunicazione di massa, in quanto è stata messa in pratica a livello occulto, questo tipo e metodo di diffusione di idee per in qualche modo per in qualche modo influenzare e condizionare la mente collettiva delle persone utilizzando determinate categorie di soggetti terzi che erano altamente qualificati, cioè intendo alludere a categorie come in particolare sono stati musicisti, cantanti, l'importanza nella utilizzazione di questi sistemi trasversali, cioè di utilizzazione di soggetti che hanno una grande influenza sulle masse e che in particolare hanno affiancato nella nostra storia se non supportato dei rivolgimenti importanti come tutte le rivendicazioni dei diritti che si sono presentati dagli anni 60 in poi, in tutte le loro manifestazioni e attraverso le adesioni alle ideologie, idee e esternazioni, però fatte proprie da soggetti che avevano una grande gente che avevano una grande adesione da parte dei giovani e ripeto dei mezzi di diffusione di massa, cioè l'editoria, poi la televisione, poi internet e così via, ha comportato un vero e proprio, a mio parere, controllo di massa che è andato a sovrapporsi a quello che occulto non era, cioè questo è avvenuto a livello occulto, mentre noi sappiamo benissimo che a livello non occulto noi conosciamo gli esempi materiali e concreti nel nostro paese, nella dittatura, Mussolini, nel nazismo, Hitler, nelle epoche successive, noi sappiamo che per la mazzoneria, ma lasciamo perdere l'aspetto mazzonico che poi è emerso dopo, diciamo così che la stampa, il controllo dell'informazione è stato uno degli strumenti per influenzare, condizionare e formare le ideologie dei popoli. Ecco, quindi, poiché Alessar Crowley pone a fondamento del suo pensiero, nelle sue varie evoluzioni, delle teorie che praticamente sono funzionali a una energizzazione dell'uomo tramite pratiche sessuali che sono al limite della concepibilità dell'uomo. Noi, con il personaggio di Alessar Crowley, abbiamo invece la presenza di un soggetto che ha operato a livello occulto e in cui la diffusione non è stata solo e semplicemente attraverso l'attività palese svolta da questo soggetto che comunque è stato constatato presente in Egitto, in Italia, in Germania, in Inghilterra, a cominciare in Inghilterra che era il suo paese, e nel resto nel mondo, in Francia e in gran parte negli Stati Uniti. È il modo di trasmettere i suoi messaggi attraverso altri soggetti che in qualche modo si sono dichiarati favorevoli o hanno recepito il suo pensiero, divulgandolo attraverso altri strumenti che bene accetti dalla popolazione, in particolare dei giovani, voglio alludere a tutti i movimenti musicali, ma anche letterari che hanno accompagnato il mondo intero dall'epoca delle rivendicazioni dei diritti degli anni 60-70 fino ad oggi, hanno di fatto condizionato l'informazione, ma l'informazione ripeto anche in diretta, tramite dei soggetti che hanno avuto un notevolissimo potere di influenzare il mondo dalla sua gioventù e conseguentemente influenzarlo in una maniera radicale. Ecco, quindi è di una importanza fondamentale, quindi l'aspetto occulto ha da una parte creato un mondo sotterraneo, una rete sotterranea che si è andata a sovrapporre al pensiero già sotterraneo e occulto che vi era stato fino alla fine del XIX secolo, quindi diciamo così che ha influenzato il pensiero successivo accentuando le componenti esoteriche, magiche, sessuali di tutta l'epoca successiva fino ad oggi, quindi stiamo parlando di qualcosa come di 120-130 anni della nostra storia e quindi cooptando, rendendo partecipi di questo progetto soggetti che hanno rivestito poi cariche a livello planetario e quindi assolutamente non solo nel nostro paese, ma a cominciare dal proprio rapporti con le massime autorità istituzionali, reali, cioè in Germania nel nostro paese è stato fisicamente per anni, è stato scacciato come spia, ma era nell'ambito di certe letture che non riguardano gli aspetti più intrinseci che in realtà sono stati toccati in modo sostanzioso e quindi hanno avuto una importanza enorme di condizionamento proprio delle trasformazioni sociali del mondo contemporaneo. Come si innesta con il passato e si innesta purtroppo con il decadimento di certi valori che si sono manifestati dall'inizio del secolo XX, che sono transitati attraverso la prima guerra mondiale, le dittature, le leggi razziali, la seconda guerra mondiale e tutto quello che è avvenuto successivamente è che ha comportato un dirottamento del pensiero e delle ideologie in generale verso l'adesione comunque di un certo pensiero che si lega a tutti quei filosofi e pensatori che pur costituiscono oggetto di studio nelle scuole che riguardano le teorie del superuomo e tanti autori che hanno fatto storia nella filosofia, nella diffusione del pensiero influenzando la letteratura, l'arte e il materialismo che esse esprimono mettendo al centro l'uomo anziché la spiritualità dell'uomo identificata dalle vecchie e tradizionali culture, in particolare del vecchio continente più che del nuovo, prima che delle Americhe influenzandolo in una maniera sempre di maggiore contrapposizione ai valori diffusi dalla Chiesa e conseguentemente il motivo per il quale ha trovato una larghissima diffusione è che è coincisa proprio oggettivamente con le trasformazioni che poi si sono riscontrate cioè il fatto che lui nella sua vita fosse un soggetto che è stato descritto bisessuale è un qualche cosa che indubbiamente ha influenzato l'evoluzione del pensiero in 120 anni della nostra storia, l'ha accompagnata non direttamente perché nessuno si è mai sognato di evocare il suo nome per fare certe battaglie di libertà cioè sono cose che sono avvenute completamente indirettamente il fatto che lui usasse le droghe la cocaina in particolare nello svolgimento delle sue attività è qualche cosa che poi noi abbiamo visto riscontrato in battaglie sociali che hanno sempre più non solo cercato di diffondere la liceità nell'uso degli stupefacenti ma di fatto anche concretamente hanno influenzato l'evoluzione sociale perché di fatto è stata utilizzata Scusi dottore, il legame con la massoneria dove nasce? o perlomeno con certi progetti di dominio mondiale di Rosa Croce d'Oro che lei ha scoperto dov'è che si interseca questa figura? Bisogna risalire ancora più indietro perché come già misi in evidenza in questi ultimi libri vi sono stati dei personaggi come l'Ucraina Blavansky che forse è stata tra le prime persone ma non l'unica che nel procedimento di interpenetrazione tra i popoli che ha incominciato a essere sempre più praticato nel XIX secolo ha comportato la diffusione di culture orientali con una storia altrettanto rispettabile e antica sotto certi profili forse anche più antica della cultura mediterranea diciamo così che si è formata e che ha visto nei tradizionali paesi del Mediterraneo formarsi la nostra cultura anche religiosa rappresentò l'inizio della diffusione di queste idee orientali che si sono venute a sovrapporre ad aggiungere ad influenzare tutto il pensiero dell'Occidente dell'Occidente inteso vecchio continente e nuovo continente poi dallo sviluppo di quelle ideologie che sono state recepite a livello di pensiero e poi sono state accettate sono state recepite dalla massoneria e conseguentemente tutto questo mondo che per secoli e secoli si è affiancato alla storia normalmente diffusa poi si è maturata in particolare nel ventesimo secolo quando per le mutate condizioni sociali e gli interessi in gioco e le potenzialità anche militari di aspirazione al potere e di governare nel mondo cosa che prima non era altrettanto facile diciamo che si sono sovrapposte e conseguentemente a livello occulto questi movimenti hanno condizionato l'evoluzione sociale è costituendo e rappresentando un nascosto elemento propulsore di movimenti politici che non sono stati di dettaglio ma sono stati anzi quelli condizionanti perché noi sappiamo che queste teorie sono state a fondamento di dittature e dopo anche il crollo di queste dittature hanno fatto parte di tutto quel mondo che dopo la seconda guerra mondiale dall'esercizio esplicito di quelle dittature è transitato in quel mondo occulto che si è manifestato in attività prosecutive del precedente esercitato tramite servizi segreti tramite attività che comunque hanno condizionato la storia dei tempi successivi quindi è enorme il condizionamento quindi tutta questa ideologia quindi dalla Blavatsky a Crowley le antiche consorterie massoni e tutti quelli che si sono aggiunti le hanno assorbite e rese funzionali al loro progetto di dominio mondiale questo mi sta dicendo diciamo che nei fatti è stato così nei fatti è stato così naturalmente negli Stati Uniti posso dire c'è stato Pike ma ci furono i rapporti con Mazzini cioè si intuiscono subito dei collegamenti perché storicamente sono accertati che fanno rendere conto che questi movimenti di idee occulte hanno in qualche modo condizionato la storia la storia italiana in particolare perché non dimentichiamo che noi abbiamo il centro di questa viviamo il centro di questa contrapposizione perché la chiesa la sede della chiesa è Roma è il nostro paese quindi racchiude in sé ed esprime proprio la sintesi massima delle contrapposizioni tra il mondo passato e il mondo che nel corso dei secoli è sopravvenuto e piano piano sostituendosi ai precedenti e trovando invece ovviamente dei freni in quelle tradizioni diffuse dalla chiesa è molto più lente negli adeguamenti peraltro marginali che sono compatibili con i cardini fondamentali che è molto difficile pensare che possano essere modificati quindi non potendo essere modificati rendono quasi necessario che vengano scardinati ecco che la contrapposizione diventa sempre più acuta più acuta più acuta fino alla determinazione di quelle posizioni che possono essere alla fine confluite in quei cambiamenti radicali che si sono verificati tra la fine del ventesimo secolo e questo inizio del ventunesimo secolo perché nelle date e nelle ricorrenze i fatti biblici e i fatti mitici che sempre hanno accompagnato queste occulte ideologie sono stati agganciati a dei riferimenti culturali che rimontano all'antichità più remota nelle sue ricerche dottore espresse nei suoi tre libri è emersa con grandissima forza l'importanza del simbolo che si lega a concetti di provenienza antichissima addirittura del mondo sumerico babilonese egiziano e così via recentemente c'è stato un fatto che ha suscitato abbastanza clamore che è la mostra dedicata all'inferno di Dante dove è stata esposta la cosiddetta porta dell'inferno di Auguste Rodin scultore francese ora sappiamo che la figura di Rodin per dati storici è legata anche a quella di Alistair Crowley e siccome c'è un certo una certa pregnanza simbolica in questo evento che accade proprio nel cuore della cristianità a Roma e quindi sappiamo quest'alta massoneria quanto sia importante il simbolo anche come notifica palese ma occulta nel suo reale significato quindi questo evento per lei cosa che pregnanza ha cosa vuole esprimere ma guardi diciamo che nel momento in cui si cerca di comprendere l'importanza che ha nella nostra storia questa regia occulta è chiaro che è possibile rendersi conto oggi che noi viviamo tra simboli tra simboli che ci vengono proposti e sottoposti con una ricorrenza martellante senza che noi ce ne rendiamo conto cioè non ne comprendiamo il significato ecco cioè assolutamente però ne siamo soggetti passivi che in qualche modo ne subiamo un'influenza quasi ipnotica senza nemmeno rendercene conto cioè entrano e penetrano dentro di noi Alistair Crowley quel discorso di leggere al contrario non è che era solo una idea rappresentativa della medaglia con le due facce ma era costituiva un metodo di diffusione e di penetrazione di messaggi di messaggi che a lui ha anche spiegato in propri studi dove insegnava a trasmetterli in un certo modo cioè al contrario per trasmettere determinati e far recepire determinati messaggi cioè è qualche cosa che è di fondamentale importanza ora troppo diciamo complesso sarebbe ricostruire quello che noi stiamo attraversando in questi ultimi due anni però di certo esistono certe corrispondenze di eventi con delle date con dei simboli che non possono essere stati espressi per caso questo vale per la piramide e la piramide realizzata al museo del Louvre nell'89 questo vale per ciò che è avvenuto l'11 settembre del 2001 che è stata una data corrispondente al primo capodanno ebraico del terzo millennio e i cui riferimenti sono presenti come data nel 1783 cioè significa che certi eventi che materialmente hanno trovato la loro attuazione concreta attuazione nell'epoca in cui noi viviamo sono coincisi hanno avuto la loro attuazione e realizzazione in date che già prima secondo questi pensieri occulti secondo avevano un significato presentavano un significato come presenta il significato che io ho spiegato in un intero volume X-Day quello del numero 21 perché letto all'incontrario il 12 rappresenta in una pluralità di manifestazioni letterarie del passato ebraiche mitiche di poeti Dante Alighieri diciamo così di tantissimi soggetti che si sono ad essi ispirati ha presentato un determinato significato quindi che abbia presentato un significato per voler indicare l'avvento il nuovo avvento di Lucifero questo è l'evento che è richiamato ora che è richiamato in tutte queste fonti che ho indicato le ho indicate ma che non le ho possino essere io perché sono presenti sono presenti nell'agenda 21 esaminata diciamo da Giovanni XXIII ma erano presenti già prima della sesura dell'apocalisse in scritture che in quel caso erano quelle di Ovidio cioè stiamo parlando di una mescolanza di queste simbologie che noi sappiamo che oggettivamente sono recepite oggi oggi ma oggi diciamo da qualche secolo dalla massoneria perché loro affiancano i riferimenti antichi ebraici con il sole la luna e certi ruoli mitici svolti e descritti nelle fonti più antiche dei nostri testi storici di Omero di Virgilio e che poi svolgono un ruolo di condizionamento nella letteratura del medioevo in Dante e nell'arte nel rinascimento nel risorgimento e che si richiamano a quei principi platonici che erano i principi del pensiero dell'antichità e ancora prima di quei riferimenti mesopotamici sumeri che sono presenti in opere che sono scritte lì nella nostra storia attraverso residui fisici che non possono essere interpretati l'avvento romano rientra in questa logica e in questo annuncio dell'avvento luciferino io posso limitarmi semplicemente alla constatazione oggettiva di determinate ricorrenze non è che io sono un adepto un iniziato e tantomeno uno di quei pochi che possono avere la direzione perché intendiamoci non bisogna io già l'ho spiegato altre volte non bisogna generalizzare e criminalizzare la massoneria nella sua integrità perché è anche impensabile che dai gradi più bassi già si stia a parlare del governo del mondo cioè non ha senso non è possibile ci possono essere degli aspetti marginali che hanno ma quando si parla di massoneria e di governo sul mondo si parla di qualche cosa che è riservato a a quelle famiglie che rappresentano la storia e quindi che rappresentano l'ultimo terminale di dinastie che hanno condotto già nei secoli trascorsi se non millenni i movimenti della nostra storia ecco quindi di un'elite quindi io che ho avuto l'occasione unica tra l'altro non solo di ritrovare qualche carta in quella vecchia istruttoria dell'83 ma che a distanza di 40 anni ho trovato dei documenti provenienti dagli interessati cioè scritti da questa massoneria e tra l'altro non è solo quello ma è anche quel memoriale ma che provengono dalla stessa diciamo fonte dalla stessa cultura ideologica sono stato un lettore privilegiato e stupito io stesso diciamo da questo rinvenimento perché di tutto mi sarei potuto attendere nella comprensione da esterno di tutto avrei potuto immaginare che sarebbe potuto accadere men che di trovare la esistenza di atti provenienti da loro e la provenienza da loro con la chiara ed evidente lettura della dell'additamento di Alistair Crowley è mostruosa è un fatto che è mostruoso nella lettura dei fatti della società dal 1900 ad oggi è mostruoso in questo contesto dottore mi spieghi come si inserisce il ruolo del World Economic Forum e del personaggio Klaus Schwab che di fatto sembra essere la punta che sta portando avanti determinati piani operativi che comunque riguardano o si collegano alle ideologie del Rosacroce d'Oro quindi questo organismo è una propagine di questa struttura non me lo chieda io non intendo effettuare interpretazioni personali io sono partito da atti processuali nei quali la mia vita si è intersecata con quella di altri magistrati io seguo le carte processuali ecco che le dicono le carte le carte processuali purtroppo indicano che proprio dagli anni 1978 o agli anni 81 82 83 quando io raccolsi la documentazione nella mia inchiesta vi è stato un passaggio dal progetto che riguardava il nostro paese che è stato identificato in qualche modo col progetto di rinascita che venne sequestrato mi pare alla figlia di Licio Gelli nel 1981 con diciamo la ricostruzione delle fasi di controllo del nostro paese di occupazione di certi ruoli preminenti nello svolgimento delle attività del nostro paese in quel periodo lì l'apparato internazionale che è sempre esistito precedentemente nella imminenza delle date incombenti dell'avvicinamento della fine del ventesimo secolo che corrisponde badiamoci bene a dei riferimenti cattolici anche cristiani pensiamo a Fatima cioè a certi eventi che hanno avuto una intersecazione con la storia e una sovrapposizione agli eventi politici alle dittature alle contrapposizioni con il comunismo alle guerre mondiali si sono intersecati cioè sono delle letture che non è che sono solo della massoneria ma sono delle letture che sono presenti anche in eventi storici che sono stati recepiti dalla nostra stessa chiesa quindi c'è una sovrapposizione e una integrazione rispetto alla quale il fatto che esistono i documenti originali massonici è terrificante è terrificante perché compone compone cioè dà la possibilità di leggere tutto ecco e allora dicevo nell'epoca da degli ultimi anni settanta all'inizio dell'ottanta si passa da un progetto che ha riguardato essenzialmente l'Italia a un progetto che diventa mondiale che è quello che poi vede l'abbattimento del muro di Berlino la nascita della contrapposizione con l'integralismo islamico e poi gli eventi che hanno scandito diciamo questi passaggi e poi la sostituzione oggettivamente riscontrabile oggi di quella componente terroristica che è stata necessaria per creare il bilanciamento dalla paura che ha consentito la spartizione planetaria dalle guerre mondiali fino alla contrapposizione con il comunismo e poi con l'integralismo islamico la sostituzione del principio del terrorismo come elemento indispensabile per giustificare l'esercizio del potere autoritario che faceva capo fino a poco tempo fa teoricamente all'ONU e materialmente agli Stati Uniti tanto da evolversi nel tempo in quanto attraverso quell'evoluzione dei concetti di deterrenza piano piano si è ristretta l'operatività dell'ONU tramite una una sorta di rivendicazione dell'esercizio del potere di autorità a livello internazionale delegandolo auto attribuendo se lo direi meglio in capo agli Stati Uniti ecco questo principio che comunque sempre era fondato su che cosa sul terrorismo cioè sul pericolo che venissero poste delle attività terroristiche che avrebbe rominato la democrazia negli Stati Uniti e nel mondo e quindi in questo contesto nel contesto successivo questo principio ha subito una diversa e radicale trasformazione nel momento in cui ciò che ha determinato il terrorismo non è stato più un soggetto fisico ma è stata la pandemia e conseguentemente questa componente ha determinato qualche cosa che tra l'altro quei soggetti che prima erano solo strumentali per l'esercizio del potere economico e finanziario a livello internazionale le banche e le finanziarie a livello internazionale erano dei soggetti che servivano perché erano indispensabili per realizzare diciamo tutti gli aspetti finanziari dei regolamenti avevano già dal 2010 incominciato a indicare essi stessi esplicitamente che i sistemi democratici in particolare di certi paesi nel Mediterraneo che non erano adeguati ai nuovi sistemi che si sarebbero imposti per la realizzazione dei progetti di sviluppo futuri ecco e quindi è stato quello un momento che avrebbe dovuto costituire a mio parere un campanello d'allarme per le popolazioni interessate come quelle del nostro paese perché ne abbiamo anche subito le conseguenze tramite determinati interventi governativi che hanno incominciato a palesarsi in qualche modo sottrattivi del potere della sovranità riconosciuta precedentemente ai paesi impunzione necessitata dall'osservanza della introduzione di certi precetti anche introdotti a livello costituzionale quindi diciamo ci sono stati degli atti di volontà palesi e riconoscibili con nomi e cognomi inutili che li stiamo a indicare ecco queste indicazioni che sono provenute da banca con nome cognome e indicazioni che sono specifiche ecco vedono poi una attuazione e una realizzazione pratica in concomitanza con ciò che avviene nella gestione della pandemia e soprattutto io qui vorrei fare una considerazione che ho fatto immediatamente non solo con questo ma attraverso l'abdicazione da parte di tutti i paesi del mondo io vi compreso l'ONU l'abdicazione dell'esercizio del potere di accertamento delle responsabilità di chi ha posto in essere queste condotte perché se c'è qualche cosa che è di gravissimo in tutta questa situazione ed è indice dell'esistenza di un qualche cosa che supera tutto che supera tutto e che denota una partecipazione di tutti è la volontaria omissione di accertamenti sulle modalità in cui questi eventi si sono scatenati ignorando i principi non solo presenti nella nostra Costituzione ma in tutte le Costituzioni un principio di responsabilità si risponde delle azioni che si compiono ecco e quindi possono essere colpose e possano essere dolose non si può abdicare dal potere di svolgere accertamenti nei confronti per individuare chi deve rispondere di questa pandemia e noi invece ci accorgiamo che per motivi vari non è stato messo in azione niente di serio anzi quel poco che è stato fatto proprio per sembra quasi per dover dimostrare di avere fatto qualche cosa si sono scontrati sappiamo benissimo con rifiuti da parte della Cina di consentire accertamenti in questo senso e nemmeno in Italia in questo contesto dottore il World Economic Forum che ruolo gioca? gioca il ruolo di essere il nuovo centro di potere che emana le direttive che assomma a sé determinate spinte che poi oggettivamente è così ma ripeto io seguo e cerco di mantenermi nelle mie analisi attaccato a atti e conseguentemente non a interpretare ruoli svolti da organismi ma casomai a individuare organismi che sono agganciati agli atti e non è che non ci siano io ho parlato in epoca non sospetta prima che tutte queste cose avvenissero del club di Roma che aveva come oggetto gli strumenti attraverso i quali avrebbe dovuto essere in qualche modo controllato il fenomeno da una parte del surriscaldamento dall'altro quello della sovrappopolazione mondiale che sarebbe dovuto avvenire con sistemi genocidi nel vero senso della parola beh sono passati 50-60 anni da allora praticamente si sono tradotti in progetti di governo addirittura con diciamo così quasi discendenze soggettive proprio dagli stessi da questa stessa realtà se noi vediamo oggi il sito del club di Roma vediamo l'uso dello stesso nome che aveva il club di Roma quando è stato creato cioè ciò che in qualche modo oggi diciamo viene consentito a noi ci rendiamo conto sempre più di dover subire questa realtà è che ci vengono mostrati cioè mentre prima in passato bisognava al caso umane veramente faticare per individuarli oggi possiamo dire almeno se uno però ha presente il significato del passato subito riconosce il presente la regia è come noi vediamo è occultata cioè praticamente il controllo di massa del pensiero di massa è occultata dai sistemi di informazione e da coloro che la gestiscono e beh è evidente che se non si ha memoria del passato non puoi decifrare il presente o ritenere addirittura meraviglioso il passaggio ad un mondo ideale senza tenere conto di che cosa ha rappresentato l'affermare oggi questo sulla base di che costruzione ideologica si è affermato questo principio ecco e quindi ritornando alla domanda e beh è in dubbio che certi fatti presentano delle chiavi di lettura che se uno ha presente questa realtà del passato non può che prestarci un'attenzione e anche una notevole preoccupazione perché possono avere una in dubbio riferimento a certi accadimenti che sembrano programmati secondo un escalation scandito da questa regia se uno limita solo e semplicemente la propria analisi così come siamo oggi abituati ad effettuare con estrema sommarietà con riferimenti tratto dalla storia che è leggibile attraverso un cellulare la frammentazione è noto non consente di capire quando poi noi ci dobbiamo porre il problema dei cambiamenti nella storia è evidente che se vogliamo capire ciò che stiamo vivendo dobbiamo tenere presente la storia se no ne rimaniamo solo e semplicemente succubi le possibilità però anche di adeguarci rimangono molto limitate insomma grazie dottore grazie grazie